Ha detto bene, un peccato, perché comunque pensavamo di avere la partita in pugno, comunque ha trovato un bel gol, ci dispiace, però è andato così, non possiamo fare niente, ormai pensiamo a Trabari e cerchiamo di conquistare questa partita per raggiungere la salvezza il prima possibile. Anche perché dietro hanno iniziato a correre forte, stanno arrivando risultati anche inaspettati, quindi serve l'ultimo sforzo. Sì, ho detto bene, oggi hanno fatto quasi tutti i risultati, quindi dobbiamo fare lo step finale. Dal punto di vista tuo personale, dopo l'ingresso in campo a Trieste, 90 minuti stasera, la prestazione è positiva? Sì, era come detto da tanto, a parte i 20 minuti della partita precedente, l'ultima partita sono sbagli a Benevento, quindi era un bel po', quindi 20 minuti la partita scorsa, una partita intera, ero abbastanza cotto verso la fine, però ho cercato di stringere i denti e andare avanti. Se tu dovessi trovare un aspetto, la cosa migliore del Pisa di questa sera? Eh, la cosa migliore, ha tanti aspetti il Pisa, comunque è una squadra che non molla mai, ci crede sempre, è un peccato perché comunque il gol così ti lascia veramente l'amaro in bocca, però comunque ci sono diverse partite ancora alla fine, cerchiamo di sfruttarle al massimo, già da Trapani.